Bella ragazzi ed eccoci tornati al sedicesimo episodio della nostra moletta allenatore con i lupi e i Wolverhampton Iniziamo subito oggi con una partita di Capital One Cup Continua la nostra stagione con i nostri giovani E oggi infatti la prima partita sarà pienissima di giovani perché ho deciso di usare prevalentemente i giocatori della nostra riserve Perché la Capital One Cup essendo comunque una coppa minore rispetto alla FA Cup Ho deciso di usufruire di tutte le nostre riserve che comunque a mio parere sono delle gran riserve Molti sono lamentati perché io ho acquistato i giocatori sotto i 70 tipo i vari Bellomo, Gaer, tutti svincolati, Cragno, Ache Comunque adesso vedete la formazione, giochiamo con 3-4-2-1 Con Cragno, Ache, Edgar Limunieza, Sterling Letter, Roara, Pseco, Bacrot, Benzia e prima punta Emanuele Bellomo Al ventesimo c'è questa azione un po' strana perché dopo un rimpallo la palla arriva a Roara Che la mette in mezzo, Bellomo la copre di fisico e viene atterrato Quindi subito calcio di rigore per noi I giocatori di avversario si lamentano soprattutto il capitano Sul dischetto si è rappresentato Justin Benzia ma tocca Emanuele Bellomo che col sinistro batte il portiere 1-0 Grande realizzazione di Emanuele Bellomo che segna il suo primo gol ufficiale Al ventisettesimo c'è questa bella azione di Bacrot che mette in mezzo ancora per Bellomo Protagonista in questo primo tempo che però viene intercettato dal tiro dal portiere Qua bellissima azione, Lettener per Bellomo che di testa usa il suo fisico, usa la sua altezza 2 metri E di testa in sacca alle spalle del portiere avversario Al trentasesimo raddoppio Andiamo a passo nei minuti e al quarantaquattresimo c'è questo angolo di Wilde che mette in mezzo per Ngog Ma Lettener spazza sulla linea Recupera il primo tempo, lancio di Lettener per Benzia che prima stoppa male, si allunga la palla Ma dopo la recupera con la sua velocità E Jacin Benzia segna il gol che chiude il primo tempo Anche se gli avversari ci provano ancora con il rally, ma Cragno ha un riflesso spettacolare E riesce a parare, il primo tempo finisce 3-0 come avete visto Dominato tutto da noi E gli avversari hanno fatto ben poco per sbloccare dalla loro parte E infatti al trentasesimo nella ripresa Ohara lanza Benzia che stoppa e di destro tira un missile micidiale Benzia doppietta anche per lui Una partita estremamente dominata Gli avversari hanno fatto veramente pochissimo Qua Benzia al 75esimo mette in mezzo per Bellomo Che prova il gol del secolo, ma non gli riesce All'84esimo c'è questo bel tiro di score, ma Cragno non si fa sorprendere E al 90esimo gli avversari dopo aver prestato per tutto il secondo tempo Provano a riaprire la partita, ma è troppo tardi E la partita finisce qua Battiamo 4-1 il Bolton Che è una formazione di seconda divisione Ma ha un'ottima squadra Ma noi oggi eravamo troppo superiori, avevamo troppo entusiasmo per fine questa partita Adesso giochiamo contro il Newcastle Contro un nostro ex, Sacco Pagato dal Newcastle per 7 milioni Forse è una svenita un po' troppo leggera da parte nostra Loro che hanno una grande squadra Noi torniamo naturalmente con i nostri titolarissimi Con Art, Zouma, Filippe Santana, Kalash, Redmond, Leitner, Villegna, Gesè Rodriguez, Mbakogu Capitano Musa con prima punta a John Guidetti Qua all'ottavo minuto ci prova subito Gesè Rodriguez, ma il portiere riesce a parare Bellissima azione al 17esimo tra Rodriguez e Capitano Musa Che aggira Simpson e col destro Brad The Krull Ahmed Musa, il capitano, segna e fa impazzire i gioi ai suoi tifosi Al 21esimo c'è un'azione stupenda di Mbakogu Che si libera di Santon con questa finta Ma è arrivato davanti a Krull Sbaglio, un gol semplicissimo Al 38esimo Sisco per Cissè Ancora per Sisco Che batte Art, Art non può niente davanti a questo gol Troppa passiva nostra difesa che si fa sorprendere Il primo tempo finisce sull'1-1 E il primo tempo giocato a viso aperto da entrambe le squadre Secondo tempo entra Belluomo per Guidetti E Belluomo subito si fa vedere con quel bel tiro Qua Benaffa per Sisco che davanti al portiere si fa parare da Art Poi la partita va avanti e qua si è subito a raddoppio Ancora doppietta per Sisco che è il 69esimo Dopo una respinta di Art respinge a rete e segna il suo secondo gol Qua ci prova Sacco ad impensirire la nostra difesa Provare il gol dell'ex ma Art velocissimo a recuperare il pallone E la partita finisce qui 2-1 per il Newcastle Perdiamo contro una grande diciamo il calcio inglese Perché ha una formazione ostica molto forte Tra i punti che è più che altro un punto che ci poteva servire Perché già fare un punto contro il Newcastle era una buona cosa Passano i giorni e ci avviciniamo pian piano a metà settembre E giochiamo contro il QPR che è una squadra che a me piace tantissimo Perché gioca uno dei miei giocatori preferiti che è Abel Tarapt Che secondo me è uno dei giocatori più forti del gioco Unico cambio in formazione è Redmond fuori e dentro Sterling Il QPR si presenta con Giulio Cesar ex Inter Poi Tarapt, Parxis e comunque ha una bella formazione Un giocatore che mi piace tanto anche del QPR NBA Anche Oilet molto forti E qua infatti ci provano subito nei primi minuti il QPR Con Granero che appoggia per Oilet ma Art non si fa sorprendere Passano i minuti e la formazione ospite ci prova ancora con Tarapt Che allarga per Diakite che mette in mezzo Ma uno spedito riflesso di Art blocca il tiro di Cissé Al quarantesimo l'Etna e scatta sulla fascia Rientra in mezzo ma Traoré sbaglia No scusate Diakite sbaglia che lo tocca dietro Dal dischetto Capitan Musa Che mi fa venire i brividi perché Giocesaro aveva capito l'angolo Ma Capitan Musa non gli sbaglia i rigori decisivi Si va a fine primo tempo col vantaggio nostro Con il bel gol del suo rigore del Capitano Nella ripena al cinquantatreesimo c'è questa bellissima azione di Rodriguez Che si libera il suo destro Mizzeda dal limite Un giocatore fantastico che potrebbe giocare anche terzo d'attacco Ma per stare al titolare ho deciso di metterlo a centro campo Qui al settantatreesimo c'è questa bellissima azione Ma Hart si supera con queste stupende due parate entrambe di piede Al settantasettesimo Tarabda prende per il culo tutta la difesa Fa su un po' di avversari Poi l'appoggia Traoré che forse è il giocatore più scarso Che c'ha bel QPR ma a noi segna La partita finisce qui Perché non sono altre azioni importanti nel finale Ho fatto un po' di possesso palla per evitare di beccare il gol Tremendo negli ultimi minuti del pareggio E ci prendiamo tre punti importantissimi per la classifica Si ritorna in Capital One Cup E giochiamo stavolta contro il Sunderland di Johnson Per chi lo conosce ex Manchester City Che è un esterno fortissimo per me Infatti qua partono subito loro molto forte Con callback Qua c'è il salvataggio di culo Non ho mai visto un salvataggio di culo Ma che c'è riuscito Al trentottesimo Psego mette al mezzo per Bellomo Che viene un po' spinto Ci poteva stare gli stemi per il calcio di rigore Ma finisce il primo tempo sullo 0-0 Al sessantatresimo c'è questa bellissima azione di Lucas Piason Che scatta super l'avversario Ma davanti a Mignolet si fa sorprendere Villene Ramse a Psego che è col destro Prova a impezzare il portiere ma ancora a Mignolet I minuti vanno sempre avanti E qua c'è un bellissimo tiro di Larsson Ma Cragno ancora insuperabile Fa un'altra stupenda parata E si va a supplementare Al novantaquattresimo c'è questa bellazione di Fletcher Ma Cragno non si fa sorprendere E qua al cento un minuto Benzia lanza Lucas Piason Che con questo pallonetto di testa Sorprende Mignolet Ed è un gol importante Un gol soprattutto importante anche per il ragazzo Che è messo un po' tra le seconde linee Qua Villene ci prova col sisto della limite dell'aria Ma non riesce a impensire il portiere avversario Finisce il primo tempo supplementare Negli ultimi minuti ci prova il Sunderland Con questo cross Ma Cragno blocca anche questa E la partita finisce 1-0 Passiamo il turno in Capital One Cup Con questa bella vittoria Non forse entusiasmante al massimo Ma una buona partita Faccio vedere il nostro rapporto squadra Che molti mi hanno chiesto Come vedete i nostri giovani Stanno crescendo E anche come vedete John Guidetti è già cresciuto di più 1-1 L'unico che non è ancora cresciuto È Bellomo Che mi stranizza un po' Perché comunque Ha giocato molte partite E pensavo sarebbe almeno cresciuto di più 2-2 Ma invece ancora no Adesso vi faccio vedere la classifica Della nostra Barclays Premier League Chelsea prima 15 Noi siamo sesti a 9 punti A un punto dal Tottenham 3 punti dal Manchester United In fondo a classifica Reading Sunderland e West Ham Comunque ragazzi adesso vi lascio Lasciate un mi piace, un bel commento E alla prossima Ciao